amici di super j buonasera la circolazione ciclonica formatasi nel mediterraneo meridionale a seguito dell'arrivo di aria più fresca dai balcani si avvicinerà domani alle coste libiche apportando mal tempo nei settori più meridionali della sicilia calabria e puglia sul resto del paese solo ventilazione ancora sostenuta di tramontana ma in attenuazione entro domani sera pochi addensamenti nuvolosi sui rilievi ma con basso rischio di pioggia nello specifico per l'abruzzo sarà un mercoledì con cielo parzialmente nuvoloso al mattino e cielo sempre più sgombro da nuvole con l'arrivo della sera la ventilazione di tramontana ma con graduale diminuzione dell'intensità con il passare delle ore il mare poco mosso le temperature della sera comprese tra 10 e 20 gradi e le massime di domani in aumento con valori compresi tra 23 e 28 gradi mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione le previsioni su super j tornano domani mattina e vi ringrazio per l'attenzione le previsioni su super jubile